A 50 anni dall'alluvione del 1966, il cataclisma che devastò il patrimonio artistico di chiese, musei e istituti culturali a Firenze in Toscana, Palazzo Medici Riccardi ospita fino al 26 marzo 2017 la mostra Firenze 1966-2016, la bellezza salvata a cura di Cristina Cidini-Luchinat e Elena Capretti. La mostra fa il punto sull'immenso danno subito, sull'enorme lavoro svolto, sulle competenze acquisite e su quanto resta da fare. Il visitatore troverà una selezione di opere e manufatti che unisce la qualità artistica all'interesse storico e documentario, in un itinerario articolato fra alcuni dei luoghi più colpiti dall'alluvione del 66. Musei, collezioni, biblioteche, archivi, luoghi di culto, che si snoda fra gli ambienti monumentali di Palazzo Medici Riccardi, dove aveva sede nel 66 il Museo Medicio, che all'epoca fu letteralmente annientato dall'acqua. La mostra La bellezza salvata mostra all'incirca 150 unità espositive. Le chiamo con questo nome particolare perché si tratta di opere d'arte, ma anche di suppellettini liturgiche, di documenti, di libri, di strumenti scientifici, di reperti archeologici. Dunque una grande varietà di oggetti, di beni culturali, che sono stati scelti da ciascuna delle istituzioni rappresentate, grande o piccola, museo, chiesa, fondazione o istituzione che fosse, per rappresentare un danno che in realtà è stato molto vasto, molto vario, molto profondamente diffuso nella città e nel territorio. Alle opere restaurate ne sono state accostate altre ancora in attesa di restauro o persino irrecuperabili, almeno per il momento, con l'augurio che il processo di recupero ormai è uno stadio molto avanzato, possa presto concludersi. La mostra vuole proprio riportare l'attenzione su queste opere, che rischiano di essere dimenticate, con l'intento di incoraggiare adeguati finanziamenti e interventi. Il recupero, che è durato 50 anni e ancora non si ferma, consentì già nei primi decenni di restaurare opere capolavoro e opere simboliche, gran parte del patrimonio librario archivistico e oggetti di varia natura, ma nel tempo, nei 50 anni intercorsi, il lavoro è andato avanti e potrebbe ancora andare avanti recuperando quelli che abbiamo chiamato gli ultimi. Gli ultimi oggetti, gli ultimi piccoli o grandi manufatti, testimonianza del fare, ma testimonianza anche di fede, testimonianza di impegno civile delle generazioni che ci hanno preceduto e che vorremmo fossero restaurati nel più oseguo del tempo, perché sono rimasti indietro ma possono ancora contribuire al recupero del patrimonio così immenso come quello che fu colpito nel 1966. L'alluvione del 66, in poche ore, è sommerse non solo la città, ma anche il suo inestimabile patrimonio artistico. L'immediata risposta dei cittadini e la catena di solidarietà dei volontari che giunsero in Toscana da tutto il mondo, dettero i loro frutti. Frutti di cui ancora oggi si trovano tracce a Firenze, un saper fare di cui fu figlia, solo per fare un esempio, la scuola di alta formazione del moderno epificio delle Pietre Dure, che vide la luce nel 1975. Credo che sia molto importante anche il messaggio educativo che permia da questo percorso interessantissimo e devo dire anche emozionante. Viene testimoniato il disastro, quindi la catastrofe che 50 anni fa ha colpito questa città con il suo patrimonio artistico e culturale, ma viene anche testimoniato lo sforzo e il grandissimo impegno di tutti, dai giovani, dagli angeli del fango, ai restauratori, per restituire a Firenze, alla Toscana e direi a tutta l'umanità tutto quello che si poteva restituire.